È un grande piacere per me aprire la serata dei Black Pearl Awards che celebra i successi della comunità di persone che vivono con malattie rare. Vorrei ringraziare Eurodiss per il lavoro che svolge quotidianamente e salutare naturalmente tutti voi. Diventare la voce dei pazienti e soprattutto di coloro affetti da malattie spesso sconosciute è una sfida che dobbiamo accogliere, che dobbiamo sentire, è una sfida per tutti, per tutti coloro che sono affetti da queste malattie, per tutti coloro che lavorano incessantemente per dar voce ai pazienti e per tutta la comunità scientifica. Fin dall'inizio ho sempre sottolineato quanto sia importante rendere la nostra unione più inclusiva e vicina alle persone. Nessuno deve essere lasciato indietro e il vostro lavoro è cruciale per modellare e costruire una società che si fondi proprio su questo basilare ed essenziale principio. Non lasciare indietro mai nessuno. Questo è un impegno che prendo seriamente perché credo fermamente nel valore aggiunto che l'Unione Europea gioca nel campo delle malattie rare. Nonostante il nostro ruolo rimanga quello di supporto agli Stati membri, sappiamo che nessun Paese è sufficiente e può farcela e ha bisogno naturalmente di un'azione, di coordinamento e di supporto da parte dell'Unione Europea. Le risorse e il ruolo che abbiamo spesso non sono all'altezza, ma non per questo dobbiamo arrenderci. In questi giorni stiamo discutendo sul prossimo bilancio dell'Unione Europea e come sapete ho delle richieste esigenti da rivolgere agli Stati membri perché abbiano degli obiettivi condivisi e ambiziosi. Quello che riusciremo a costruire nei prossimi sette anni dipenderà dalle risorse che riusciremo a garantire per politiche e programmi cardine dell'Unione Europea e la ricerca naturalmente è uno di questi. Come possiamo accettare e competere nel mondo globale senza la ricerca? Come vogliamo che sia la nostra Europa nei prossimi anni? Questo dipende da come decideremo di spendere i nostri soldi e per questo l'Unione Europea sostiene e continuerà a sostenere risorse importanti da destinare alla ricerca e soprattutto a sostenere programmi come Horizon che sono cruciali nel campo delle malattie rare. Insieme siamo più forti e questo è vero soprattutto in questo settore. Dobbiamo lavorare insieme, condividere competenze, informazioni, rafforzare le reti di riferimento europee che collegano centri di competenza, professionisti dei diversi paesi per identificare opzioni di trattamento alternative. Dobbiamo supportare il lavoro delle organizzazioni di pazienti che forniscono sostegno e incentivi per lo sviluppo dei farmaci. Dobbiamo migliorare l'accesso dei pazienti alla diagnosi, alle informazioni, alle cure e tutto questo naturalmente riguarda il nostro futuro e soprattutto la possibilità di concentrarci su obiettivi strategici. Vorrei congratularmi con tutti i vincitori per i loro risultati in tutti gli ambiti, dalla scienza alla ricerca, all'assistenza sociale al processo decisionale. Questi sono premi che indicano l'impegno e la costanza di una comunità che è al servizio dell'Europa perché vuole essere al servizio delle persone, credo in un'Europa più solidale e credo questo auspicio, voglio condividerlo con voi. Grazie a tutti.